e buongiorno buonasera a tutti bentornati sul mio canale dopo tantissimo tempo torniamo con un gameplay anzi per la prima volta sul mio canale portiamo uno spacchettamento si un co-opening su fifa e si lo faccio oggi fuori orario fuori tutto non me ne importa niente tanto ho 13 pacchetti da aprire perché li ho vinti sono meritati diciamo con i premi della squad battle sui premi giornalieri quindi tutti scambiabili quindi tranquillamente lo facciamo oggi perché ho tempo oggi giustamente ovviamente lavoro non ho mai tempo di farlo la sera e c'è la premier league la premier league a parte ronaldo e messi ha i giocatori che valgono di più quindi se troviamo non so un aghero un salà che è devastante quell'altro mi ricordo chi è che andiamo a vederlo subito che non mi ricordo più ericsson ecco non mi veniva in mente comunque andiamo subito speriamo di trovare una luce blu io voglio trovare quello ne ho uno che è adesso vi faccio vedere che è questo qui che è giocatore squadra della stagione resto del mondo 49 41 che quello ce n'è uno ed è quello però ed è il resto del mondo cominciamo con un pacchetto oro premium ne abbiamo 13 da aprire tra premium maxi mega apriamo vai speriamo bene vediamo vediamo luce blu luce blu niente luce oro non raro bellissimo bellissimo marafona no neanche maradona cioè proprio il come si dice la copia della copia di maradona va bene si mandiamo tutto a clap e qua scartiamo tutto va bene andiamo velocemente tanto me ne frega niente ok ok sono anche in una posizione un po scomoda però sono con il tethering addirittura fai oro premium maxi 24 oggetti dai una luce blu una luce blu pacchetto slim no non ci credo oro non raro anche questo dia allora io non ho mai fortuna un po di fortuna ce l'ho trovato chiellini va bene va bene ok qui scartiamo tutto ho anche pochi crediti perché giustamente è un po che non ci gioco usciamo dal negozio e rientriamo nel negozio vediamo a volte funziona non si sa mai è un po lenta la connessione perché comunque sono con il tethering e il 4g è un po basso andiamo oro premium maxi dai dai la luce blu dai la luce ha fatto qualcosa ancora slim diciamo stiamo scherzando ma chi è questo pavone un 76 meno male che non li ho comprati sti pacchetti anche perché non ho un euro e non li spenderei certo per fifa mandiamo tutto al club e andiamo così ok dai 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 voglio ci rimangono 10 pacchetti pacchetto mega questi costano un bot sono quelli da 100k mi sembra vediamo ancora pacchetto slim ma stiamo scherzando ma chi è peres no ragazzi che c'è veramente pacchetto slim in un pacchetto mega oh almeno ci danno 2000 crediti meno male almeno questo io non dico di trovare un tot vabbè uno ce l'abbiamo però ma negli altri pacchetti vai giocatori oro premium però almeno un pacchetto grosso con gli schermi c'è un buon pacchetto niente tutti slim ma che ma chi è questo welbeck vabbè comunque della premier lasciamo perdere lasciamo perdere guardado allora welbeck quanto costa assolutamente nulla vai mettiamo tutto al club poi ci pensiamo dopo guzman vai scattato non mi interessa niente tanto guarda oh dai oro premio andiamo dai ti prego fifa nigeriano portiere e nia e nia e nia e nia ma ho sbagliato io qualcosa sicuramente magari dovevo aprirli stasera ma io stasera lavoro come faccio ad aprirli va bene va bene dai oro premio ancora dai niente allora mi sa che ho sbagliato io qualcosa italiano portiere viviano va bene vabbè sono tutti giocatori che comunque servono un pochettino dagli 82 in su però per l'SPC però fanno schifo mancano sei pacchetti oro prime dai giocatori oro prime dacci qualcosa fifa dacci qualcosa non ci da nulla inglese ah vabbè king va bene è della premiere vediamo velocemente quanto vale ma non credo che valida tanto e infatti non vale assolutamente nulla ho anche il club vuoto infatti quasi tutti i giocatori me li prendo dai i giocatori zinco prime andiamo dai vediamo vediamo oh almeno gli schermini meno male ragazzi vabbè che ita però è un 83 dai almeno questo almeno un 83 l'abbiamo trovato con gli schermini beh va bene vediamo quanto vale velocemente perché non ho neanche tanto tempo che devo andare a lavorare tanto comunque lo mettiamo in lista trasferimenti tutto questo lo mettiamo nel club va bene dai almeno uno l'abbiamo trovato con gli schermini almeno uno giocatori zinco prime vai subito subito ecco blim ritorniamo qui però almeno ci da oro ladile almeno per rodriguez va bene va bene un 81 che ci sta eh sì va bene dai va bene va bene vabbè zinco comunque ci da dai zinco rari vai tutti rari ci da metà oro e metà argento quindi gli argenti ci sono sempre che schifezza francese cdc ah con la mamma è un giocatore inutile assolutamente inutile anche nella realtà eh lo dicono quelli della Roma eh non lo dicono va bene andiamo avanti ultimi due pacchetti ultimo dove possiamo trovare qualcosa di diverso e poi apriamo abbiamo l'altro oh schermini almeno questo dai dacci un bel giocatore spagna isco no fabbricas 86 fabbricas 86 me lo godo abbastanza andiamo a vedere quanto vale dovrebbe valere abbastanza eh eh ok 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 va bene va bene va benissimo va benissimo così lista trasferimenti tutto il resto al club e abbiamo l'ultimo minuto di registrazione giocatore almeno questo sarà lucetta blu sperando che sia un un overall abbastanza buono andiamo a vedere ma non credo proprio nooo vabbè cioè arabo al harbi va bene va bene 85 e questo lo andiamo a mettere subito nel mercato trasferimenti ma dovrebbe valere abbastanza 40k 30 si 40k va bene va benissimo ok clip di gioco registrata giustamente eh si allora qua mi avanzano 10 secondi di registrazione quindi stacchiamo da fifa e ritorniamo qui allora che dire spacchettamento schifoso a parte fabregas che almeno ci frutterà qualcosa e il nostro ehm tots che comunque sapevamo già di avere però almeno un 85 vale 40k possiamo fare qualcosa comunque che dirvi ehm vi dico subito una cosa sono le quattro e mezza quindi io devo andare a lavorare quindi lasciate un like lasciate un commento iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto supportatevi almeno ehm questo pack opening senza spendere un euro abbiamo trovato qualcosina un tozzo l'abbiamo trovato ma era garantito però almeno qualche credito ce lo facciamo quindi ci vediamo alla prossima se riuscirò a fare qualche altro spacchettamento magari con i crediti tanto no non credo perché non non spreco i crediti così mi comprerò qualche giocatore magari comunque quando avrò la possibilità di fare un altro ehm un altro video su foot ve lo porterò quando avrò la connessione sarò a casa mia finalmente sarò a casa mia e quindi vi saluto saluto a tutti da ade att a att